Giuseppe Stabile. La Romanità sud-est europea vista dagli altri, Valacchi e Valacchie nel Medioevo tra Oriente e Occidente. In origine, Valaccoe era il nome etnico con cui i non-romani indicavano i romani, si tratta cioè di un esonimo, un etnonimo usato dall'esterno, mentre Romanoe era il suo endonimo corrispondente o, per meglio dire, lo divenne laddove perse il suo valore politico e assunse a tutti gli effetti quello di etnonimo usato dall'interno. Tale fenomeno fu il risultato della caduta dell'impero romano e prima ancora della sua crescente disgregazione, che aveva già minato irreversibilmente l'antica Romanitas universalistica, destinata a conservare un valore unicamente simbolico. Non è un caso che l'impero romano d'Oriente abbia continuato a dirsi orgogliosamente romano, e di fatto è romaico, CFR il GRB. Pur essendo ormai greco per lingua e cultura, mentre definiva con un certo disprezzo cioè valacchi, alla maniera dei barbari slavi e germani, i romani, e tali linguisticamente, almeno, che ancora vivevano tra i Balcani e il Mistro. Uso e storia corrispondenti agli etnonimi e valacco e e romano e ebero i toponimi e valacchia e e-romania, CFR il GRB. E il TC. RM, sebbene del modo in cui i e-romani e danubiani e balcanici indicavano le proprie e-romanie, durante il Medioevo, non sia rimasta traccia e si possa tal più ipotizzare che fosse derivato dall'at romanus romania e ricordasse soltanto alla lontana il Rum. Romanie, forma d'otta modellata nel 19 secondaria su Roman lat romanus.1. Le origini dell'etnonimo e valacco e si fanno risalire, di solito, al Celt. Asterisco Volco, S, che designava un gruppo di tribù celtiche, CFR il Lat Volcae e il GR, nei Sec. IA.C, IDC, originariamente insediate tra la Gallia orientale e l'altopiano Boemo, forse già dal 3 secondaria anno corrente a contatto con tribù germaniche, per cui il significato del Germ. Asterisco Volco, attraverso un comune processo antonomastico, fu via via esteso fino a comprendere indistintamente tutti i Celti e in generale le popolazioni non germaniche. Essendo stata poi sottomessa da Roma la gran parte dei Celti, tra i Li e il quarto secondaria DC, Asterisco Volco passò a designare i Celti romanizzati, in particolare i Galli, e finalmente i romani stessi. I Germani, tranne i Goti, CFR Got. Secondo la fonetica storica della lingua rumena, un eventuale esito regolare del Lat. Romania avrebbe avuto all'incirca la forma asterisco-rumae, quello di un ipotetico Lat-Balch. Asterisco-Romania-Ugr-Biz. La forma rumie. CFR-V-Arvinte, Roman, Romanesque, Romania, Bucureti, 1983, P27. Rmnes-Romani-Rm-A-Roma, due non chiamarono romani, ma appunto Vala, Anteited. Val, A, e H, Germ. Asterisco-Ualos e le popolazioni parlanti la romana lingua e quando quest'ultima, tra il quinto e il nono secondaria circa, andò frammentandosi nei diversi parlari romanzi, continuarono a chiamarle con il medesimo etnonimo di origini celtiche, sicché Vala diventarono gli odierni francesi, valloni, italiani, romanci e rumeni. Nel corso del Medioevo, tuttavia, l'uso di E-Valacqua e specularmente di E-Romano, andò via via restringendosi e oggi risulta circoscritto, non casualmente, a due antiche aree di confine, quella retoromanza, nella Svizzera orientale, dove il Grieg. Romancio-Romancio-Romancio-Lat-Romanice, CFR Grieg. Roman-Romano-Lat-Romanus, si contrappone al TED. Chur, Walsh, e quella Balcano, romanza, nelle odierne Romania e Moldavia, nonché in ridotte enclav sparse per i Balcani, dove il Rum. Rumano-Romani-Rummeno-Romeno, CFR anche Arum. Ar-Manarummeno-MRum. Asterisco-Rumon-Macedorumeno-I-Rum. Rumaristro-Rumeno, si contrappombono i continuatori di Uala in diverse lingue, come il Gr, il Bulg, Mek. Eser, il Cr-Vla, Lung. Ola, L'Alb. Vla e il Tc. Eflac, Iflac o Ulac.3. Nel sud-est europeo, la storia del Nomen Barbaricum dei Romani assume un interesse particolare, vuoi per la preziosa luce che sa può gettare sui secoli bui e del medioevo romanzo orientale, vuoi per il numero e la diversità delle tradizioni linguistiche che virtualmente coinvolge. La romanità sud-est europea sembra scomparire dalle fonti, insieme con la terminologia latina e romano-Romania, tra il VI e il VII secondaria, al culmine di un progressivo declino della vita romana in quelle che erano state le province danubiane e balcaniche dell'impero romano, per ricomparire tra X e XI secondaria e valachizzata, occultata sotto la terminologia germano-slava e valacco-valacchia. I tempi e le circostanze in cui questa evalachizzazione ebbe luogo e i suoi esiti si diffusero da una lingua all'altra, tra Oriente e Occidente, presentano ancora aspetti poco chiari. È opinione comune che l'ant. eited. wala o già il germ. Asterisco walos si sia diffuso prima da Occidente a Oriente, passando in slavo ecclesiastico e tramite questo in greco bizantino, quindi nella direzione opposta, da Oriente a Occidente, passando in latino medievale, che non di meno, per tutto il Medioevo e oltre. Fu lingua d'espressione colta anche in diversi paesi dell'Europa centro-orientale, e finalmente nelle lingue romanze occidentali, in francese, provenzale, italiano, catalano e forse castigliano. Rispecchia fedelmente la complessità di questi rapporti tra Oriente e Occidente il contesto che quasi certamente occasionò la prima attestazione in assoluto dei valacchi sotto il nome di valagoti con il quale, copiando nel settimo ottavo. 2 CFRG, Gobler, Gotiske Sworterbook, Leiden, New York, Benavenkoln, 1989, pagine 151 a 152, W, P. Lehmann, H, J. E. Witt, S. Feist, A. Gothic Etimological Dictionary, Leiden, 1986, P. 287. 3 CFRG, Paris, Romani, Romania, Lingua Romana, Romantium, in Melanges Linguistics, I, 1906, pagine 8 a 9, pagine 11 a 15, Corso Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Bologna. 1982, pagine 165 numero 16 e 170, H, Miescu, La Romanité dans le Sud, Est dell'Europe, Bucuresti, 1993, p. 154. Secondaria la cosiddetta Frankiske Volkertafel che si ritiene scritta nel 6, un interpolatore di cultura germanica, forse un franco, intese distinguere i goti d'Italia, Francia o Spagna, che già adottavano, verosimilmente, almeno un parlare misto gotico e romanzo, dagli altri goti e gentes germaniche, Primus Ermenius Genuit Gotos, Valagotos, Vandalos, Gippedios et Saxones, .4. Della controversa etnogonia si conserva oggi il solo testo latino, ma non è escluso che possa essere stata scritta. Originariamente in greco nell'impero romano d'Oriente o a Costantinopoli per poi essere tradotta e infine ricopiata nel regno franco forse giaccarolingio.5 per trovare attestato l'ant. 8. Vala romano bisogna attendere l'ottavo nono secondaria, allorché comincia a essere inserito da glossatori germanici in diversi testi tardolatini o protoromanzi, talvolta in veri e propri glossari, come quello latino baiuvaro detto glosse di Kassel, databile per l'appunto attorno all'ottocento, .6 il solo got. Vala straniero, romano potrebbe essere comparso molto prima in antroponimi traditi da fonti latine del quarto V secondaria, CFR il funzionario romano di Gallia che Ammiano Marcellino chiama col nome Balcobaudes, dove il prefisso Balco. Walco, per la caratteristica oscillazione B, barra W, delle attestazioni latine, .7. Si ritiene che gli slavi abbiano appreso l'antico esonimo dei romani direttamente dai germani, coi quali vennero a contatto sia nell'Europa sudorientale, cioè proprio nell'ex Dacia Traiane a diventata Gotia e poi Gepidia insieme a parte della Moesia, sia nell'Europa centro-orientale, nel Norico e nelle Pannonie fin verso il corso dell'Elba, su quello che era stato per secoli e in parte ancora era, data la vicinanza dell'Italia e della Raetia, la persistenza di resti della romanità locale, il. Confine orientale tra mondo germanico e mondo romano.8 l'OSL. 4 CFRM, Schoenfeld, Waterbuch der Alt-Germanischen Personen, und Volkernamen, Heidelberg, 1911, P-250, K, Mullenhof, Deutsch-Altertunskunde, 2. BD, Berlin, 1887, P-280, W, Goffart, Romesse Fall and After, London, 1981, p. 146, 150-163. 5 CFRW, Goffart, Romesse Fall, p. 157, 160-161. 6 CFRG, Kobler, Alto Cdeuces Waterbook, 1993, http2.com.b.ac.at-c303010.adubin.html, Wala, Corso Tagliavini, Le Origini, p. 163 n. 12, 478 a 479. 7 CFRG, Kobler, Gerhard, Gotiskes Waterbook, 1989, http2.com.b.vvv.queblergerhard.die.gotubin.html, Wala, M, Schoenfeld, Waterbook, p. 43. 8 CFRH, Miescu, La Romanité, P-155, A, Rossetti, Historia Limbii Romane, Bucuresti, 1968, p. 213-214, e, Stnescu, Bizantino-Vlachica, 1. Les Vlach à la fin du Xe et début du Xe et la restauration de la domination bizantine dans la peninsule balcanique, in revue des études sud-est-européennes, 6, 1968, 3, p. 420, 432-433, 3, p. 433-434, C. Dejkoviciu, M, Constantinescu, Reds, Breve Histoire de la Transilvanie, Bucurest, 1965, p. 63, p. p. panitescu, Interpretri romanesti. Studii de Historie Economics i Social, Bucuresti, 1994, p. 76, via Georgescu, Le Terme de Romanus et ses equivalents et derives dans l'histoire du peuple rumen, in la nozione di e romano e tra cittadinanza e universalità. Atti del Seminario Internazionale di Studi e da Roma alla Terza Roma, Roma, 21-23 aprile 1982, Napoli, 1984, p. 417, 419-20, Zeta, Mirdita, Vlasiu Historiografigi, Zagreb, 2004, p. p. 174, 157-159, i, 1863, p. 132-134, f. Miklosic, Lexicon lingue paleoslovenico grecolatinum. Emendatum auctum, Vindobone, 1862. Hcl.ivlae non è documentato prima del 12 secondaria, la sua più antica attestazione si trova in un atto del re serbo Stefano Nemangia con il significato di valacco balcanico, Miklosic lo registra però con il significato più antico di romano, italiano in coppie databili tra i sec. 12 e 14 del Patericum Paleoslavo e della vita di Metodio, la cui versione originale risalirebbe alla fine del 9 secondaria e quindi alla missione Cirillo-Metodiana in Moravia e Pannonia, 863-886, o almeno ai suoi diretti continuatori in Dalmazia e Bulgaria. Quel che è certo, l'esistenza di due varianti slave, VLA, e VLO, o Vol, diffuse l'una tra gli slavi meridionali, l'altra tra gli slavi orientali e occidentali, da cui, rispettivamente, l'OSL e KCL, e l'ANT, RUS, VOLOCH, suggerisce che il nome sia entrato nello slavo comune prima che la differenziazione di questo si compisse, cioè non oltre l'ottavo nono secondaria, un analogo terminus ad quem suggerisce la metatesi delle liquide, germ, asteriscoval, SL merid, VLA, e SL OR, VLO, VOLO, per pleofonia, i cui effetti si rilevano in tutte le forme slave. L'ANT, RUS, attestato per la prima volta nella cronaca di Nestore o dei tempi passati, la quale data al dodicesima secondaria ma contiene narrazioni anche più antiche, non si discostava dall'OSL e KCL. Essendo usato solitamente con lo stesso significato, CFR VASMER, alter name del romani Schenvolker, se non che proprio il significato di questa prima attestazione resta controversa e oscilla tra romani antichi, franchi e valacchi ma carpato-danubiani, gli antenati degli odierni rumeni, .9. I valacchi del sud-est europeo fecero la loro prima comparsa in assoluto nelle fonti bizantine, con il nome greco di, tra la fine dell'X secondaria e l'inizio dell'undicesimo, precisamente in due diplomi del Basilio II Macedone, datati al 980 e al 1020, mentre l'uccisione di un fratello dello zar bulgaro Macedone Samuele, nel 976, deve piuttosto considerarsi il primo fatto storico a proposito del quale sia stata fatta menzione dei valacchi, riferito sul. Finire dell'undicesimo secondaria dalla cronaca di Cedreno, che lo aveva attinto da quella poco più antica di Scilizze.10 La comparsa 1865, p. 68 I, 1971, p. 163 a 164 9 CFR, Pasmer, Russische Settimologische Sworterbuck, I, AK, Heidelberg, 1953, p. 222, m. Pioni, lesse volox e des annales primitives de Kiev in etudes slaves et rumen, 2, 1949, p. 76 a 92, in, 23, 1948, p. 1948, p. 12, z, mirdita, vlasio historiografigi, p. 367. 10 CFRH, Miescu, Influenta Grecia Scasupra Limbii Romane Pinin Secolul al Quindicesimo Lea, Bucuresti, 1966, p. 163 a 174, id, La Romanite, p. 155 a 156 e, Stnescu, Bizantinovlakica, Pagine 407 a 415 a, Armbraster, Romanitatea Romani Llori Storia Unei Dei, Bucuresti, 1993, p. 182, s. Dragomir, Vlaid in Nordul Peninsulei Balcanice in Evul Mediu, Bucuresti, 1959, p. 111, 161 a 162, v. Bogrea, sur les Vlac de Cedrenus, in Bulletin dell'Institut pour l'Etude dell'Europe sudorientale. 7, 1929, p. 50 a 53, m, guioni, Skylitzes et les Vlac in Revue d'Istoire compare. Desongruises, ns, 25, 1947, p. 115 a 119, id, La Premier Mansion Historique des Vlac des Monts Balkans in Acta Antiqua Academie Scientiaro Mungariche, 1, 1951, 52, p. 495, 514 g, Murnu, Cand siundesse i Vesche Romani in Thaïa dat in Historie in Convorbiri Literare, XXX 1905, p. 101 a 102, 109, H. Gregoire, La Chanson de Roland della 1085 in. Relativamente tarda dei nelle fonti bizantine è stata spiegata con la loro prolungata marginalità rispetto al bizantine e il mancato loro coinvolgimento, sotto il nome di, infatti, storici rilevanti, ma anche con la tendenza a chiamarli in modi diversi da come essi stessi presumibilmente si chiamavano, cioè romani, restando dei mai pienamente ammessi alle alla, di qui la possibilità che le popolazioni romanizzate del sud-est. europeo comparissero nelle fonti bizantine già prima, sotto nomi barbarici come e, oppure arcaicizzanti come, e, .undi, più antico del grbiz, ma di dubbia interpretazione, è l'ant. In gl. rmwl, a, è attestato nel poema Widsit al dat. pl. rmulum, è databile quindi tra 9 e x secondaria, che è un composto di rmeu letteralmente romano-valacco, chambers rinvenne un analogo galvalum gallo-valacco. nell'anglo-saxon chronicle, databile addirittura al settimo secondaria, e che può interpretarsi come romano, specie d'Italia o di Gallia, e come romano d'Oriente, il che significa bizantino se non proprio valacco d'Oriente.12 Quest'ultima ipotesi, non verificabile, sembra tuttavia avvalorata dall'origine probabilmente gotica di rmiule dall'accostamento, nel poema, con popolazioni germaniche orientali, quali appunto i goti e in particolare i ruggi e i gluomi, insediatesi tra il norico, l'illirico e l'Italia, mid rugu miciwaes ond mid glomum ond mid romualum, .13 si aggiunga che wlh, il secondo termine del composto, può significare genericamente straniero, ma anche romanofono ovvero valacco, per cui, considerata l'accezione non secondaria del got. RM Bisanzio, Impero Romano d'Oriente, RM Ulas potrebbe significare valacchi dell'Impero Romano d'Oriente. Bulletin della classe des Lettres et des Science Morales et Politics dell'Accademia Royal de Belgique, Quintesse, T. 25, 1939, P. 303, S. Brezianu, Lesse Vlac, dans les sources bizantines concernant les debut dell'Età des Asenides. Terminologie etnique et ideologie politique, i, in revue des études sud-est-européennes, 25, 1987, 3, p. 206 a 208, id, Les Romains et les Silence des Sources dans l'Obscure Millenaire, in revue Romaine d'Istoire, 21esimo, 1982, NR 3A4, P. 393, Z. Mirdita, Vlasi, p. 23 a 24, P. St. Nsturel, Les Valac Balkanics o Xe3 i Siecles, Movements de Population et Colonisation dans la Romanie greco et latine, in Bizantinische Forschungen, 7, 1979, p. 91, 101 a 102, T. J. Winifrit, de Vlax, The History of a Balkan People, London, 1987, p. 100 a 105. 11 CFRE, St. Nescu, Bizantinovlakika, p. 420, 432 a 433, S. Brezianu, Les Romains et les Silence, p. 388, 397 a 399, 400 a 401, id, Romani e Ie Blacchi e la Anonymous. Histories e Ideologie Politiche in Revista dei Storie, XIV, 1981, 7, p. 1981, p. 330-1331, 1338, id, Les Vlac, p. 213, id. Della Populatia Romanizzatla Vlaii Balcanici in Revista dei Storie, XX 1976, 2, p. 220 a 221, L. Tamas, Formazione del Popolo e della Lingua Rumena, in Rassegna d'Ungheria. Aprile 1943, 3, p. 198 a 199, Z, Mirdita, Vlasio Istoriograffigi, p. 22 a 23. 12 CFR A, Armbruster, Romanitatea, 1993, P23 18, R, W, Chambers, Widsit, A Study in Old English Heroic Legend, Cambridge, 1912, P211, K, Malone, Widsit, Copenhagen, 1962, P25. 13 CFR K, Malone, Widsit, p. 115, 193 a 194. È l'assimilazione dello slavo comune come da parte degli autori bizantini a costituire, tuttavia, il vero snodo cruciale nella storia del Nomen Barbaricum dei Romani. Il passaggio dalla variante meridionale in, A, dello slavo comune al GR Bits. Anteriore alle più antiche attestazioni note dell'OSL e KCL. Può considerarsi cruciale essenzialmente per due motivi, uno, e coincise con un decisivo mutamento di senso, ristrettosi a quello di romanofono balcanico e o carpato, danubiano, due, Bisanzio fu il principale tramite con cui l'antico germanismo si diffuse sia verso oriente, sia soprattutto verso occidente. dal GR Bits. Si fanno derivare, infatti, sia il Mediolat, Blacus sia, forse con la mediazione di quest'ultimo, l'ant. FR Black Black, Blas e Blasque, dove la palatalizzazione CHS potrebbe risentire dei plurali Mediolat, Blasi, Blasi oppure, ipotesi più problematica, del plurale SL e KCL. Vlasi, se non di una forma SL Merid. Vlas.14 sempre da si fanno derivare il TCC UE. ULAC, LAKVALACCO barra VALACCHIA, attestato nell'UZNM che data all'undicesimo secondaria e della più antica cronaca turca conosciuta, e nell'Idevisament d'Oumond di Marco Polo, che data alla fine del 13, ma anche il TC. OTFLAC, AFLAC o IFLACCHIDEM attestato in cronache del 15 secondaria, come la TRI e BLFETI la storia del padre della conquista e di TURSUM BEG, ed entrato nell'uso letterario, verosimilmente, non prima della metà del 14esimo punto 15. Gli stessi balcanici menzionati in tante fonti bizantine si riconoscono chiaramente nei VLACCHI degli ANNALES BARENSES SEC. Settimo undicesimo, facenti parte di contingenti misti, Russorum, Guandalorum, Turcorum, Bulgarorum, Vlacorum, Macedonum, Aliorumque, che il Costantino VIII Macedone inviò all'inizio dell'undicesimo secondaria, in Italia meridionale, non a caso, i primi valacchi attestati da una fonte medio, Latina XVI. Nell'arco dei successivi quattro secoli, dal XII a tutto il XV, i resti della Romanità sud-est europea comparvero spesso come valacchi nelle fonti medio-latine, ma se il significato dell'esonimo che li designava vi restò costante, colpisce la varietà di forme che esso vi assunse, non sempre di facile spiegazione, v, a, a, ilacius barra volacus, wallacus, valatus, o lacus, blacus e. 14 CFRS Brezianu, Romani Siblachila Anonymous, P1333, N, Drganu, Romani inviacurile nono quattordicesimo pebazza toponimiei siaonomasticei, Bucuresti, 1933, p. 17-18. 15 CFR CFRS Brezianu, Terminologia etniche in territoriile Carpato d'un rene in Evul Mediu, in L, Birzu, S Brezianu, Originea si continuitate a Romani lor. Areologie si traditie historique, Bucuresti, 1991, p. 322-323, 346, via Georgescu, Le Terme de Romanus, P419 e numero 41, M, A, Ecrem, o mentiuni in edit despre romaniid in secolul al nono lea in Ogusname, ciamai vecchie chroniche turchi in studii si cercetri dei storie vecchie. 31-1980, p. 289-290, N, Peldiceanu, Sant'Valaiia mintiti in Ogusname. In Bulletinul Bibliotecii Romane, 12-1985, p. 287-292, D, Dvojenko Markov, Devlax, The Latin-Speaking Population of Eastern Europe, in Byzantion, 2, Liv, 1984, p. 514-521, A, D. C. Eflac, AFL in SLM Encyclopedisi, 4, Ebigualior, Istanbul, 1945, p. 178-179, N, Peldiceanu, FFE Inde Encyclopedia of Islam, 2, C. G. Leiden, London, 1965, p. 688-689, Z, Mirdita, Vlasio Istoriografigi, p. 313-314, I. D. Vlasi, Polinomi Annarodi, Impovigiesni Prilozzi, I. 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 33-2007, P. 260. 16 CFRS Brezeanu, Romani Siblachila Anonymous, P. 1332, I. D. Les Romains, P. 401-NN64 e 65, A. Armbraster, Romanitatea, p. 30-31, 36-43, Z, Mirdita, Vlasi. Ui Storiografigi, p. 41-43, 45-50. Black, C., Stati Uniti, ecc. Una tra le più antiche e interessanti di queste attestazioni concerne la romanità dinarica e dalmatica, I. Morovlachios Est Nigri Latinit nella crona Carinium Slavorum dell'anonimo Presbyter Diocleatis nota agli slavi come lietopis popaduclianina, che risale alla seconda metà del XII secondaria, CFR il Mediolat, Morovlachus Valacco Nero, dal GR Biz. In CR Mavrovlai Lit. Morlacco, punto 17. Sono attestati da fonti Mediolatine i più antichi riferimenti ai valacchi carpato-danubiani, come Valati, in una lettera di Papa Gregorio IX al re ungherese Bela IV, datata al 1234, e come Blachio Blachi, nella cronaca dell'anonimo notaio di un re ungherese Bela, secondo i più il secondo o il terzo, datata alla metà del XII secondaria o all'inizio del XIII, oggetto di annose controversie interpretative, particolarmente delicata quella che contrappone le storiografie rumene e ungheresi sulla continuità della presenza rumena in Transilvania, punto 18. 17. La ragione per la quale questi valacchi sono detti e neri e non è chiara, si è ipotizzato che possa avere a che fare con un'antica tradizione simbolica indo-europea o più probabilmente altaica, che associava certi colori ai punti cardinali e in particolare il nero al nord, CFR il TC. Caraula e Caraiflac, da cui il Bulg. Valacco Nero, Nord Danubiano mentre Valacco Bianco, Sud Danubiano ma in origine occidentale o vicino. Nero, del resto, era anche il tipico manto per il quale i valacchi erano conosciuti in certe regioni, CFR il Sere CR barra Gung, il GR, da cui l'appellativo Cronogung C barra e mantelli neri. Panaitescu ricorda che il nero abbigliamento dei pastori e carovanieri valacchi provenienti dalle montagne dell'entroterra faceva contrasto con quello bianco delle popolazioni costiere, che nei porti dell'Istria e della Dalmazia erano prevalentemente italiane. Sarebbe anche possibile, perciò, che ad originare il bizzarro nome dei valacchi istriano-dalmati e dinarici, le sue varianti nelle diverse lingue balcaniche, sia stato l'It, o piuttosto il Ven, Morlacco. CFRS Dragomir, Vlaid in Nordul. Pagine 89, 92, 143 a 148, I, Becker i Morlacchi nella letteratura europea, Roma, 2007. Pagine 22 a 24, Z, Mirdita, Vlasiu historiografigi. Pagine 337 a 348, 369 a 370, D, Zdaru, Les plus anciennes allusions or remains dans la letterature provencale in acte 7. Memoir du hier congresse international de langue et litterature du midi de la France, Avignon, 1957, P108. A, Ambraster, Romanitatea, Pagine 30 a 31, M, Lzres Kuzobian, Kumanias the name of 13 17th century Moldavia and Eastern Wallachia, Some aspects of the Kipchak, Romanian Relations in Turklook Bilgisiarastirmalari Journal of Turkish Studies. 8, 1984, P265, PISCOC, Etimologi ischirieni kervatskogailispskoga gezzica. 2, Zagreb, 1972, Mavar, Vla, Pagine 392, 606 a 607, I. D. I. Zagreb, 1971, Gunge, P634, S. Josipescu, La colonia degli romani negri che dicono valacchi, in revue rumen. D. Stuar, 18, 1979, 4, Pagine 673 a 685, P. P. Panentescu, Introducerei in Historia Culturii Romanesti, Bucuresti, 1969, Pagine 224 a 227. 18 CFRS, Papacostea, Romani in secolul al XIII lea intrecruciats imperiul mongol, Bucuresti, 1993, P61, S. Brezianu, Les Romains et Let's Silence, P401, I. D. Romani e Sieblachii, La Anonymous, P. 1317, 1325, A. Armbraster Romanitatea, Pagine 36 a 41, I. Gamilscheg, Blachii acquistare pastores romanorum in omaggio lui Ioan Lupas la implinirea varsteide 60 de anni August 1940, Bucuresti, 1943, Pagine 270 a 276, I. Gergel, Pasqua romanorum, Pabula Iuli Cesaris. Un capitol di nomenclatura historica romana in revista Rivelor, I. 1926, 3, Pagine 387 a 389, S. Pasqu, Vuevodatul Transilvaniei, I. Cluge, 1971, Pagine 47 a 49, G. Cristo, Romaiakes Vlachii, Niestornales Anonymousnalins a Zadok, CXI, 1978, No. 4, Pagine 656 a 657, L. Tamas, Romaiak, Romanocke Solaok Dacia Traianaban, Budapest, 1935, Pagine 208 a 221. Tra le fonti occidentali, le uniche paragonabili con quelle medio-latine e greco-bizzantine quanto al numero delle attestazioni di Valacchi in esse contenute furono, senza alcun dubbio, le fonti francesi dei Sec. 12-15. In francese antico e medio, gli esiti di Wala conservarono lo stesso significato di romano orientale, che già possedevano in medio latino e greco-bizzantino, ma svilupparono certe particolarità, lo spiccato polimorfismo, Blas, Blac, Blac, Blacr, Val L, Acque, V, A e Ilac, ecc., e l'apparente betacismo dell'iniziale, che paiono riscontrarsi esclusivamente negli esiti medio-latini e romanzi, non in quelli greco-bizzantini e slavo-ecclesiastici.19 oltre al concorso di scripte diverse, fu la tradizione scrittoria medio-latina e il suo ruolo di tramite con quella greco-bizzantina, che causò questa varietà di forme e in specie la nascita della variante con B, iniziale non soltanto medio-latina ma anche romanzo occidentale.20 d'altronde, le stesse cause potrebbero spiegare la presenza di forme con l'iniziale B, anche in certe tradizioni germaniche, CFR Land. I.S.E. Blokumar, Il Bav. Blacco, Il Sass. B.L.C.H., .21. Secondo Henri Gregoire, i valacchi fecero la loro prima apparizione nelle fonti antico-francesi e occidentali in genere, sotto il nome di Blos, con la chanson de Roland, che lo studioso belga datava alla fine dell'undicesimo secondario o all'inizio del dodicesimo.22 bisogna ammettere, però, che l'unico significato certo di Blos è quello. In. 1.972, pagine 154 a 159. 19.19 In uno studio monografico di recente pubblicazione, chi scrive ha potuto quantificare la presenza dei valacchi e delle valacchie nella letteratura francese medievale. Sulla base di un campione di 27 testi appartenenti ai generi più diversi e databili tra il dodicesimo e il quindicesimo secondaria, a sua volta ricavato dallo spoglio di 75 testi, 44 dei quali attestanti etnonimi e toponimi dell'Europa orientale, ma non valacchi e valacchie, sono state registrate 433 attestazioni, 204 dell'etnonimo e 229 del toponimo. CFRG, stabile, valacchi e valacchie nella letteratura francese medievale, Roma, 2011, pagine 85 a 91. 20 L'origine di questa B, va ricercata piuttosto nel rapporto trascritto e parlato quale si configurava nel Medioevo, che non in una peculiare evoluzione fonetica degli esiti occidentali individuale. CFRG, Browning, Medieval and Modern Greek, Cambridge, London, etc., 1983, p. 27, M., Basmer, di Slaven in Griechenland, Berlin, 1941, p. 294, 295, p. Malingudis. Stadien zu precedente Slavische Nordenemen Griechenlands, i. Slavische Flurnamenhaus der Messenischen Mani, Mainz, Swiss Baden, 1981, p. 146, f. Brunet, sur l'ellenisation des toponimes Slavesen Macedoene Bizantine in Travoet Memoir, 9, 1985, p. 235 a. 265, g. Bonfante, Studii, p. 113, 116 a. 117, f. Viscidi, i prestiti latini nel greco. Antico e bizantino, Firenze, 1944, p. 6 a. 7, 13, 16, 19 a. 20, b. a. Terracini, di che cosa fanno la storia gli storici del linguaggio? In Archivio Glottologico Italiano, XVI, 1935, p. 147 a. 149, i. D. XVI, 1936, p. 1 a. 4, 12 a. 16, 19 a. 22. 21 CFRA, Schullerus, Siebenburgische Sachsische Waterbook, B. D. 1. A. C. Berlin, Leipzig, 1924, p. 650, f. L. Pintescu, Presences dell'Element Viking Dance Les Paces della Romanité Orientale in Context Mediterraneen, in Studia Antiqua et Archeologica, 8, 2001, p. 4 e Passim. 22. La presenza dei Valacchi nella Chanson de Roland rimane controversa. Gregoire è sicuro di ravvisare les Valacchi de Tessalie et de Piret Neiblos o 3224, e Oblots c5272, e in Cels de Bascol o 3474, le due inconsuete varianti antico-francesi di, Valaccoe e Valacchiae attestate nella Chanson, derivanti, secondo lo studioso belga, da Blas e da Blasque, rispettivamente per assonanza e per metatesi. CFRH, Gregoire, la Chanson de. Generico di Saraceni, mentre i Valacchi balcanici e virtualmente danubiani fecero la loro comparsa nelle fonti antico-francesi sotto i nomi di Blas, Blac e altre varianti accomunate da B. iniziale, solo tra l'inizio e la metà del XIII secondaria, nelle cronache della quarta crociata. Ciò non toglie che i primi contatti della Francia e dell'Occidente romanzo, e con l'Oriente balcanico e danubiano siano sicuramente anteriori alla nascita dell'impero latino di Costantinopoli, che li rese molto più stretti, risalendo perlomeno all'undicesimo o al dodicesimo secondaria. L'immagine che l'Occidente medievale ebbe dei Valacchi e dell'antica frontiera balcano-danubiana si basò in gran parte su quella veicolata dalla letteratura in francese antico e medio, un'influenza che si esercitò soprattutto sulle letteratura romanze più vicine, la Provenzale e l'Italiana. I Blac di due sirventesi del trovatore Rainbow de Vacueras databili all'inizio del XIII secondaria, a prima del 1207, con Seldon all'emperatore Noemme Agra di Vernes ni Pascors probabilmente, i Valacchi più antichi della tradizione provenzale, si inquadrano anch'essi nello scenario della Quarto Crociata, in particolare, il primo dei due componimenti combina ancora gli etnonimi dell'Europa orientale con quelli del Vicino Oriente e delle prime crociate, Coman, Ross, Griffos e Blac, con Turk, Payane. Per San, non molto diversamente dalla Chanson de Roland.23 direttamente riconducibili alle Chansons de Geste, se non alle crociate, sono i Blacchi del libro di Uguccione da Lodi, con cui i Valacchi fanno la prima comparsa nella tradizione italiana poco più tardi che in quella provenzale e francese, tra i miscredenti che nel giorno del giudizio Reu Comad avrà l'elenco, simile a quelli del Roland e di Roland, pagine 265 a 268, 286 a 287, 290 a 291, H, Gregoire, R, De Chiser, la Chanson de Roland et Bizanche ou l'utilité du grec pour les Romanistes in Byzantion, 14, 1939, p. 240, 245, W, D, I'm, Romanen und Germanen in Charlemagne Reich, Munchen, 1984, p. 240, 241, 265, 416, G, Beist, Variationen über Roland 2074, 2156 in Beitraget sur Romance-Lied und Englisch in Filologie. Festgabe fur Wendelin Forster zum 26. October 1901, alle, 1902, p. 219, p. Boysonade, du nouveau sur la Chanson de Roland. La Genesis historique, le cadre geografique, l'Emilie, les personnages, la date et l'autère du poème, Paris, 1923, p. 181, 186 a 187, a. Muyson, repertoire des noms propres de personnes et de lieucites dans les chansons de geste francaises et les ouvres et tranger derives, secondo barra 4, Textes et Rangers, Textes Annexes, Supplements, seconde partie, Textes Annexes, Genev, 1986, p. 523 a. Neuer Weidner, zu reiden geografie im Roland Slidin H, Stim, J, Wilhelm, HSG, verba et vocabula, Ernst. Gamilscheg zum 80. Geburtstag, Munchen, 1968, p. 379 a. 404, i.D., 1969, p. 22 a. 59, a. Demandach, naissance et development de la Chanson de geste en Europe, 6. Chanson de Roland, Transfers de Mitte dans le monde occidentale et oriental, Genev, 1993, p. 180 a. 181, 272, m. Nets, zur Tradition und Perspective in der Geografie der Rechanson de Roland, Frankfurt a. M. Main 1981, p. 106, 114, f. Curta, Color Perception, Deierstaffs and Color Terms in XII XVII century French Literature in Medium A. Evum, Vol L. I.I., 2004, p. 45. 23 CFRD, ZDARU, les plus anciennes allusions or remains dans la litterature provencale in actes et memoir du hier Congress International de Lang et Literature du Midi de la France, Avignon, 1957, p. 108, v. A. Grigoro I. The Vlax and the Troubadour. Brief Analysis of Three Poems by Rainbow de Vacuiras, in Studia Pazzinaca, 6, 2008, p. 37 a. 57, degli antichi volgari italiani, 17-3, adenda e corrigenda, Bibuzzo, Foligno, 2000, p. 350. Rainbow, mette assieme ebrei, musulmani e falsi christians di diversa provenienza. Ungari e bolgari, rossi, blachi e kuman, turchi e tarmin, sarrasin e pagana, .24. Una storia parallela a quella dell'etnonimo e valacco e ebbe il toponimo e valacchia, il quale, se si eccettua nolant. Eited. Vala nolant, l'arm. Balak, il tccue. Ulak e probabilmente lo SL e KCL. Nella sua accezione originaria di Italia, valacchia, tutti databili tra il nono e l'undicesimo secondaria, è attestato dal dodici secondaria ma si diffuse dal tredici intervallo di tempo in cui il grbiz. Il Mediolat, blachia, lant. Fr. Blaqui e lant. Serivlacag fecero la loro comparsa nelle rispettive tradizioni letterarie evidenziando un trattamento fonetico essenzialmente identico a quello dell'etnonimo corrispondente.25 L'evoluzione del toponimo e valacchia, nel sud-est europeo riveste un grande interesse per la storia della superstite romanità di quelle parti. In particolare, essa documenta il graduale passaggio dalle E-Terre dei Valacchi, formazioni tribali prive di un'identità statuale e geografica precisa, CFR il Mediolat, Terra Blacorum, lant. Frazione Tereas Blas, l'OSL e KCL. Ai e vuoi votati dei Valacchi, formazioni politiche assai meglio definite, anche sotto il profilo territoriale, sul modello bizantino-slavo, ma non ancora identificabili esclusivamente né con i principati rumeni di Moldavia e Valacchia, né con quest'ultima. Divenuta poi la Valacchia è vera e propria, CFR il Rum. Char Romaniasque. Questo passaggio, molto ben documentato dalle fonti latine e francesi, consente di restituire alla facces medievale del sud-est europeo una pluralità di Valacchie sparse tra il Mistro e le coste orientali del Mediterraneo, Stnescu conta almeno 7 entro la sfera di influenza bizantina parlando di un Ressode e Vlachies e Balcanix, ma pure di distinguere nella loro storia due fasi, delle quali la prima va dall'inizio del 13 secondaria, se non dal nono X, all'inizio del 14 secondaria e la. Seconda dall'inizio o dalla metà del 14 secondaria a tutto il quindicesimo e oltre .26 a mutare da una fase all'altra, insieme con lo statuto delle Valacchie, è la loro distribuzione geografica specie rispetto al Danubio, ciò che tocca l'annosa questione sulla Uraimat dei rumeni, per cui nella prima esse sono localizzabili, quando lo sono, in prevalenza a sud del Grande Fiume, nella seconda a nord. Si trattò, certamente, di un declino delle Valacchie Balcaniche, cui corrispose una rapida. 24 CFR Glossario degli Antichi Volgari, P350, Poeti del 200, I, Ed G, Contini, Milano-Napoli, 1960, P620. 25 CFR A, Decei, Romaniid in Vicul al nono Lea Pinin al tredicesimo Lea in lumineis voare l'or. I storici armenesti, in Anuarul Institutului dei Storie Naional, 7, 1936-1938, p. 176-191. V Spinei, The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the 10th to the mid-13th century, Leiden 2009, p. 80-81, E, A, Sophocles, Greek Lexicon, P590, F, Miklosic, Lexicon, P68, Lexicon lingue palaeslovenicae, 5, Praha, 1962, P201, I, 1863, P. 135, G, Kobler, Alto Cdeuces Waterbook, 1993, Uala, E, Stnescu, Unitatea territoriului romaneschi in luminamenti unilore externe. Valacchia essi sensurile in studii. Revist dei storie. 21esimo, 1968, 6, p. 1108-1113, S. Brezianu, Les Romains, p. 399-400, G, Murnu, Cand siunde seivesc romanii. P. 104-106, N., Iorga, Historia Romani-Lor, p. 60, 83, 98-1-26, CFRZ, Mirdita, Vlasio Istoriografigi, P29, E, Stnescu. La Population Vlac dell'Empire Bizantino Xietrei Siecle in Actes du XV Congress International de Tudes Bizantines, 4, Istuar. Communications, Atenes, 1980, p. 4-7, 13-16, G, Stabile, Valacchi, p. 45-59. Ascesa di quelle carpato-danubiane, le quali, dai primi knezati e voevodati slavo, rumeni ai principati rumeni di Moldavia e Valacchia, non soltanto assunsero a tutti gli effetti forma di Stato, ma ricoprirono un ruolo autonomo e riconoscibile nello scenario sud-est europeo, che tra il tredicesimo e il quindicesimo secondaria avrebbe conosciuto mutamenti drammatici quanto cruciali per l'intera Europa. Col progressivo sfaldamento degli zarati bulgari e serbi, infine della stessa e l'Ungheria costantemente sotto assedio, non stupisce che la minaccia mongola prima e quella turca poi abbiano risvegliato l'antico interesse sull'Aims-Balcano danubiano e i popoli che vi abitavano tra cui, appunto, i Valacchi da parte soprattutto dell'Occidente ma anche, in certa misura, dell'Oriente bizantino, slavo, creando i presupposti affinché fosse ridefinita e precisata l'immagine dei Valacchi e dei paesi a cui questi davano il nome. I Diana Comnena e Cedreno, non diversamente dai Blas o Blac delle Chansons de Geste, di Clari e Villarduin erano rappresentati come popolo ostile, saraceni e o loro alleati, per le fonti francesi e italiane, spesso collegati a Bulgari, Cumani o Ungari e localizzati per lo più nei Balcani, a sud del Danubio. È probabile che tale rappresentazione negativa dei Valacchi come saraceni e sia pervenuta alle fonti occidentali attraverso testimonianze di soldati, religiosi e viaggiatori che avevano avuto contatti con le regioni balcaniche o danubiane oltre che fonti scritte, soprattutto bizantine e ungheresi, in ogni caso, almeno dalla fine del 14 secondaria, si affermò una rappresentazione più positiva dei Valacchi come cristiani e addirittura difensori della Christianitas.27 non mancano, tra il dodicesimo e il tredicesimo. Secondaria, attestazioni di Valacchi e o di Valacchi è localizzabili in area pericarpatica o carpato-dambiana, a nord del Danubio, ma in nessun caso una tale localizzazione può considerarsi certa. Nel Nibelungen Lide e nella cronique Rime di Philippe Muschietto opere entrambe databili all'inizio del 13 secondaria sono attestati Der Herzogia Ramun Kuzer Vlakenland, signore di Valacchi aggiunto Mitt Siebenundert Mannent alla corte del re d'Ungheria, e, Lerois della Tireas Blas, certo un voevoda o Knez, che sconfigge i Mongoli sorprendendoli a un pass, più probabilmente carpatico che balcanico.28 anche dopo la nascita dei principati di Valacchia, 1325 ca. e Moldavia, 1359, il toponimo è Valacchia e continuò, in realtà, a essere usato per riferirsi indistintamente a qualsiasi e paese dei Valacchi ed è possibile localizzarlo soltanto sulla base di riferimenti storici e geografici. Più di una fonte francese parla, ad esempio, di due Valacchie localizzandole di volta in volta sulla sponda destra o sinistra del Danubio, Philippe de Mezzière, in De la Schevallerie della Passione de Jesus Christ, 1396.27 per l'evoluzione dell'iconografia dei Valacchi nelle fonti francesi medievali, CFRG. Stabile, Valacchi, pagine 61 a 75.28 CFRR, S. Ciobanu, les chroniques français de l'Ive Croissade et les Romains de l'aire della Latinité orientale in Nouvelle Tudes d'Istoire, 7, Bucharest, 1976, pagine 254, 255, P. Musks, chronique rime de Philippe Musks, e veque de tournai au XIIe siècle, ed F. a. de Reffenberg, 2, Bruxelles, 1838, p. 681, i. d., Historia Regum Francorum, ed a. Toblerin, Monumenta Germania Historica. Scriptorum, XXVI, a Noverae, 1882, p. 819, Papa Costea, Romani in secolul al XIIIe lea intrecruciati imperiul mongol, Bucureti, 1993, p. 110 a 11, 136 a 143, R. Vergatti, Romani, Bulgari, Cumani, p. 96 a 98, A. Armbraster, Romanitatea, P. 42, K. Lachman, Dernibelunge notunt di Klage, Berlin, 1892, P. 135. Narra di come i soldati cristiani della crociata di Nicopoli avessero attraversato les terres inabitables et les deserts della Serviette della Dabola Lachiet riferendosi ai principati danubiani, Bertrandon della Broquiere, nel Voyage d'Altremer, 1457, e narra, invece, di come avanti che già passasse Paricelle con tre e la Rommenie, l'impero bizantino o ciò che ne restava elegrent turcavoit conquistuts les de Vallacquies, c'è sta savoir la grande et la petite riferendosi. Alla delle fonti greche bizantine e moderne, tra Epiro, Macedonia e Tessalia.29 è significativo che per meglio distinguere le più familiari valacchie balcaniche da quelle carpato-danubiane, le fonti tardobizzantine tendessero a chiamare solo le prime e con diversi nomi le seconde. Nei documenti del Patriarcato Ecumenico, dalla metà del 14 secondaria, si parla rispettivamente di e di cioè Valacchia d'Ungheria e e di Russia, nelle di laonico calcocondila, 1463, si alterna l'arcaismo con e in luogo, per l'appunto, di benché e, o, fossero accomunati dalla stessa lingua. Affine all'italiana, CFR. Anche la formula coeva dell'OSL. Eccaciel. Grovleinskaya Zemlya, il punto trenta ancora all'inizio del 16 secondaria, d'altronde, documenti ragusei come l'epistola Michaelis Bocignoli, 1524, si riferiscono chiaramente ai principati danubiani definendoli valacchie, per cui, nel descrivere i confini della «Valacchia ultra danubium contra nicopolim», senza dubbio l'odierna cara Romaniask, menziona aboriente altera Valacchia quae Moldavia abungaris a Pellatur, ab antiquis dacia dicta, punto trentuno tutto ciò sembra confermare l'ipotesi di Erban Papacostea. Riguardo alle fonti occidentali e in particolare francesi del 13 secondaria, cioè che queste attribuissero poca o nessuna importanza alla posizione sudo-nord danubiana di valacchie e valacchi, verosimilmente perché in essi riconoscevano la medesima lingua e cultura, comuni a una numerosa popolazione romanza, dispersa tra i Balcani e il mistro.32 naturalmente, la comparsa stessa di valacchie e valacchie nelle fonti medievali, oltre alla continuità con cui etnonimo è. 29 CFRN, IORGA, Istoardes Relations entre la France et les Romains, Paris, 1918, p. 25-26, id. Acte si fragmente cuprivire la storia romani loradunate d'indepozitele d'inmanuscrise alla Pusului, I, Bucuresti, 1895, p. 9, 25-26, b., de Labroquiere, Le Voyage d'Autremer de Bertrandon de Labroquiere, Première cuir transchanet conseiller de Philippe Le Bon, Duc de Bourgogne, Ed Ciskeffer, Paris, 1892, p. 149. 30 CFRN, Stnescu Unitatea, p. 881-882, p. P. Panaitescu, Interpretri Romaneti, p. 77, S. Brezianu, Terminologia Ethnic, p. 325-326, numero 21, a. Armbraster, Romanitatea Romanilor, p. 46-48, Laonici Calcocondile Ateniensis Historiarum Libri Decem, Edi, Beccheri, Bonnae, 1843, p. 77-78, 319, h. Ditten, Bemercungen zu Laonikos Calcocondiles na Crichtenuber di Lander und Volkeram precedente europaischem Kusten des Schwarzenmeres in Clio, 43-45, 1965, p. 185-246 e. Virtoso. Titulatura Domnilorias Ocerea la Domni in Cara Romineaschi Moldova, p. min. secolul al XVI Lea, Bucureti, 1960, p. 193-197. 31 CFR Acta keslevele kerdeli esmagjaros zagmolo vavales avassalfoldevel valovisoni Auz, Edi, Veres, I, 1468-1540, Budapest, 1914, p. 129, M, Olban Wollinger. Cltoristrini des Prerile Romane, I, Bucuresti, 1968, p. 175-180. 32 CFR, Papacostea, Romani in secolul al XIII Lea, p. 178-179, R, Vergatti. Romani, Bulgari, Cumani, p. 90-91. Toponimo sono stati usati lungo un tale arco di secoli designando ancora oggi le uniche isole e romanze dell'Europa orientale, presuppongono il valore originariamente etnico dei due nomi, che per i germani significavano pur sempre romano e paese dei romani, e il significato di romanofono autoctono, valacco balcanico o danubiano nonché quindi di valacchia balcanica o danubiana. Il significato moderno di e-valacco, tuttavia, non è sovrapponibile a quello medievale e ciò dovrebbe escludere un uso retroattivo di e-rumeno, come pure di arumeno, istrorumeno o meglenorumeno, almeno per due motivi. Uno, e valacco, può assumere il valore socio-professionale di pastore nomade, carovaniere o di servo, servus glebe, e nelle fonti greco-bizzantine e slavo, ecclesiastiche, ma anche quando conserva il suo originario valore etnico può riferirsi a popolazioni solo parzialmente omogenee, nelle quali l'elemento romanzo era in qualche modo dominante e o più caratterizzante, non esclusivo, 33-2, e rumeno e non è attestato prima del 16 secondaria e per quanto sia virtualmente certo che già da prima il rum. Rum ha nella sua variante roman e entrambi latinismi patrimoniali, diretti i continuatori dell'at romanus fossero usati con lo stesso significato medievale di e-valacco, non c'è dubbio che abbia assunto il suo significato moderno al più presto nel 18 secondaria, con la scuola latinista Transilvana.34. Testimonianze preziose sull'antichità dell'uso di continuatori dell'at romanus nel sud-est europeo e sull'importanza, che, in questa stessa regione, ebbe 33 CFRM, Gioni, La Transhumans des Vlac Balcanics au Moyen Age in Bizantinoslavica, 12, 1951, p. 31, 33-39, A, Rossetti, Historia Limbi, p. 213-214, S. Pucariu, Rumen et Romani Netudes de Linguistique Rumen, Ildeskheim, New York, 1973, p. 60, G., Ivnescu, Historia Limbi, p. 285-348, Z., Mirdita, Vlasio Historiografigi, p. 75 NN 14 e 15, 76-77, 156, S. Novakovic, Les Problems Serbes, I. 3, In Archiv for Slavische Philologie, Iii, 1912, p. 456-460, D. Angelov, D. Instellung des Bulgarischen Volkes und Seine Entwicklung zur Bulgarischen Nation in. Osterreichische Ostefte, 23, 1981, 4, p. 359, I. 1964, p. 21-23, 28-31, A, Lazarou, La Rumen et ses rapports avec le grec, Tessaloniki 1986, p. 12-15, I.T. P. Vucanovic, Les Valak Habitants Autoktones des Space Balkanics in Etnographie, N.S., X.I., 1962, p. 11-14, 37, E. K. Bege, Zura Romunisken World Forschung in Studii si cercetri linguistice, XVI, 1976, p. 3, N., Peldiceanu, Le Mond Ottoman des Balkans 1-402-1566, Institutions, Societe, Economie, London, 1976, p. 113-52, O. L., Barkan. Essai sur les Donne Statistiques des Registres de Recensment dans l'Empire Ottoman AUXV et XVe siècle sin Journal of the Economic and Social History of the Orient, I. 1958, 1, 1958, p. 23-25, ST, AG, GOGU, Romanus Sivalacus Sau, Ceste Romanus, Roman, Roman, Aroman, Vala Sivla, Bucuresti, 1939, p. 45-61. 1969, p. 79, P. Malingudis, Dina Crichton des Nichetas coniates uber di Entsteung des Zweiten Bulgarisken Staates in Bizantina, 10, 1978, p. 90-92. 34 CFRL, Valmarin, La guerra del Ru, e del Ro, in cultura neolatina, XLVI, 1986, FASC. 1-4, p. 225-249, p. 234-244, L., Renzi, ancora sugli umanisti italiani e la lingua rumena, in Romaniske Forsunge, B. D., 112-1, 2000, p. 5-6 e 23 numero 41, V. Arvinte, Roman, Romanesk, Romania, p. 54, 59, 63-64, e, Stnescu, Premisele Medievale Ale Constintei Nazionale Romanesti di Inviacurile XV-17, in Studii. Revist dei Storie, 17, 1964, 5, p. 978, 981, p. p. Panaitescu, Interpreti Romanesti, p. 55-56. Il rapporto tra romanità e pastorizia nomade o seminomade, si ricavano dalla lingua albanese, la quale, quanto a valacchie e valacchie, può vantare una tradizione terminologica antica e complessa, anche se forse poco frequentata dagli studiosi punto in particolare, l'alb. Remer, pl. Remenge e sembra appartenere al più antico fondo di elenenti latini della lingua essendo quasi certamente un continuatore diretto del lat romanus non diversamente dal rum. Rumam barra Roman ma presenta anche una significativa stratificazione semantica, esso può significare valacco sia nell'accezione etnica di romanofono, quindi virtualmente di macedorumeno, sia nell'accezione socio-professionale di pastore nomade.35 è chiaro che, stante la diretta derivazione di Remer da romanus postulata da Meyer e Filippide, l'accezione etnica di romanofono non può non essere la più antica, per quanto sia magari desueta oggi. La diffusione originaria di Remer, che Meyer registrava nei parlari toschi di Grecia e si sovrappone ad aree dove le popolazioni valacche e albanesi hanno convissuto per secoli conservando tuttora una significativa presenza di arumeni, basti ricordare l'uso controverso dell'etnonimo nella cosiddetta cronaca di Ioannina 1384-1401, suggerì a Cabege la possibilità che questo latinismo dell'albanese derivasse, in realtà, dal latino non direttamente ma tramite la rumeno.36 a sostegno di. Questa ipotesi, Cabege aduceva il fatto che il lat-r, da regolarmente rr, e non r, in albanese, di cui l'obiezione che l'etimo di Remer dovesse presentare una vocale prima della vibrante, individuata nell'a, prostetico della rumeno, per cui Remer deriverebbe appunto dall'arum. a.r.man. Rossetti registra però l'alb. Remer e Papaagi ricorda che nei parlari arumeni del Pindo ed Albania, soprattutto il frirot, le forme arman e aruman apar in litteraturi i cultet appartengono alla letteratura colta, grmn, rumano o rr. mn sono le forme correnti.37 una conferma del fatto che la lingua albanese abbia conservato memoria dell'accezione etnica di Evalacco, ma anche una stratificazione completa dei mutamenti che questa ha conosciuto attraverso il lungo Medioevo sud-est europeo, si riscontra nell'alb.vlaekoban. L'uno dall'OSL Merid. Vlae usato sia nell'accezione di Valacco, romanofono sia nell'accezione di Valacco, pastore e. 35 CFRE, Lozovan, Romains et Barbares sur le Moyen Danube in F, Altaim, Ed, Gesquicte de Runnen, BD, 2, Berlin, 1960, p. 225 a 244, L, Tamas. Formazione del popolo e della lingua rumena in rassegna ad Ungheria, 4, 1943, 3, P202, via Eorel, Albanian Etimological Dictionary, Leiden, 1998, P370, G. Mayer, Etimologisches Worterbuch der Albanischen Sprache, 2, Strasburg, 1891, RMR, P365, A. Filippide, Originea Rominilor, 2, Bucureti, 1927, P652. 36 CFRM, Ruffini, Ghinubuia Spata e Luptele Arominilor Pentru Cucerirea Janinei, 1360-1400, in Istoria Basilisse Maria Acque Tomase Tesau, Despoton Giovannine, in Studii. Revista dei Storie, NR5, 15, 1962, p. 1128, 1135, e, Cabege, Zura Romuniskenwort Forschung, p. 8 a 16, i.D., Studime Giuesore, 3, Irgene Istorine e Giues Skype. Fonetiche Istoriche in Rilingia, 1976, P134, i.D., Studime Giuesore, 4, Nga Istoria e Giues Skype in Rilingia, 1977, p. 251, i.D., Studime Etimologiche Nefuscete Skypes, 4, 1996, p. 97, i.D., Studime Etimologiche Nefuscete Skypes, 6, 2002, p. 449, 37 CFRA, Rossetti, Istoria Limpii, p. 213, i.D., La Linguistique Balcanique, Bucuresti, 1985, p. 48, t. Capidan, Aromanii. Dialectul Aroman, Studiu Lingvistik, Bucuresti, 1932, p. 7, t. Papaagi, Dicionarul Dialectului Aroman, General Etimologic, Bucuresti, 1974, p. 188, 205-206. L'altro dal TC. Coban è usato unicamente nell'accezione di Valacco, Pastore, CFR e anche il Rum. Cioban, il NGR. O, e, il Ser, Mec, Bulg. Pastore, 38. È emblematico che per generazioni studiosi di ogni nazionalità si siano affannati anzitutto a cercare di suffragare interpretazioni più o meno esclusive ed etnocentriche dell'uso medievale di etnonimi quali e valacco, bulgaro, cumano e oe albanese, trascurando quella che resta l'interpretazione più ovvia e aderente alla realtà di quelle genti a quei tempi, la convivenza, necessaria, che avvicina fin quasi a confondere e tuttavia lascia dietro di sé e nonostante i secoli di guerre, un patrimonio inestimabile di diversità e ricchezza culturale. In conclusione, la lunga storia dell'etnonimo e valacco e del toponimo e valacchia e può costituire un importante paraigma de Medioevo sud-est europeo e la prospettiva albanese è la più adatta a far emergere la sua reale complessità, liberandolo dalle concrezioni secolari degli opposti nazionalismi balcanici non meno che dai preconcetti occidentali. 38 CFRT, Papaagi, Diccionarul, P1274, A, Deciac, Dictionnaire d'Etimologie d'Aco-Romane Elements Slaves, Magyars, Turks, Grecs Moderne et Albanais, Frankfurt SM, 1879, p. 565-566-A, Ciornescu, Diccionarul etimological l'imbii romane, Bucuresti, 2001, P192, via Eorel, Albanian etimological, P582. Ciornescu, Diccionarul, P582.